Sono le 3 e un quarto di mattina per un comune mortale ovviamente è un orario in cui si dorme per i mondani magari è notte di discoteca per gli uomini o le donne di poker è ancora tempo di lavoro in particolare per il tournament director Raffaele Maria De Nicola che sta guardando il computer con tutti gli aggiornamenti ci siamo fermati e abbiamo 10 giocatori rimasti a caccia dei 105 mila euro per il trionfatore dell'Ipo 13. Esattamente Jack abbiamo concluso poco fa il torneo dei tre dell'Italia Poker Open abbiamo appunto 10 giocatori rimasti non siamo riusciti a raggiungere il final table ci siamo dovuti fermare insomma appunto per motivi di orario riprenderemo domani concludendo il livello in corso che è appunto il 33esimo giocheremo fino a raggiungere il final table televisivo da 8 giocatori. Ecco quindi si comincia con questo tavolo da 10 e si usa il tavolo intero vero? Si usa un tavolo intero da 10 non due spezzati? No, il regolamento dell'Italia Poker Open prevede che il tavolo che in gergo si dice uno official sia composto da 9 giocatori quindi giocheremo su due tavoli da 5 separati verrà ovviamente effettuato il retro dopodiché al primo eliminazione del tavolo non televisivo passeremo sul palco. Quindi in un tavolo da 10 è una cosa in un tavolo diverso cioè con due tavoli da 5 in realtà si vivrà un poker più aggressivo e fisiologicamente a livello teorico l'eliminazione potrebbe essere più rapida? Assolutamente sì ma credo sia anche la bellezza del torneo che appunto ti porta a giocare dal full ring quindi al tavolo completo allo short ended quindi 5 giocatori per tavolo è giusto anche che sia così. Allora tu hai gli stack dei giocatori precisissimi perché avete appena terminato il chip count e ovviamente sono fogli scritti a penna mezzi stracciati ma in realtà sono quelli che ci vogliono in tempo reale anche per la possibilità per i blogger di lavorare al meglio. Esattamente servono a noi per riportare le informazioni che sono appunto state trascritte sulle buste di sicurezza che vengono consegnate ai giocatori noi li riportiamo qui su questi fogli insomma in maniera abbastanza rapida più che altro per avere un controllo di qual è la situazione i nominativi e i vari chip count. Allora andiamo a vedere i nomi tu ormai li conosci tutti vedo che c'è Stefano Facciolongo che è per tutti e Bubi che comanda le operazioni vero? Con quanto? Esattamente Bubi è il chip leader con 8 milioni 625 mila vorrei sottolineare ancora la presenza di Antonio Bernaudo che è un giocatore che quest'anno ci ha stupito con risultati importanti devo ammettere che il livello comunque di 10 rimasti mi sembra discreto nel senso ho visto dei buoni giocatori ai tavoli. Perfetto allora cerchiamo di vedere i singoli oltre a Stefano Facciolongo cioè Bubi 8 milioni 625 mila, Antonio Bernaudo 2 milioni 805 mila, Federico Asta 3 milioni 790 mila, Pietro Semeraro 2 milioni 770 mila, Cristian Calliumi, leggo bene o Caciumi? Calliumi, perfetto 3 milioni 735 mila, Roberto Adami 2 milioni 8, Paolo Soriani 1 milione 525, Salvatore Erittu 3 milioni 175 mila, Giamani Kabat 6 milioni 335 mila e Daniele Primerano 4 milioni 300 mila. Saranno loro a darsi battaglia per raggiungere ovviamente il final table. Ricordo che comunque per colui che arriva al final table ci sono 8 mila euro ma pensate il primo ne vince 105 mila per cui quando sei lì vabbè è chiaro che anche il secondo non è mai contento però l'ottavo dice come ne ho messi dietro quasi 996, una roba clamorosa. Comunque insomma sarà una sfida appassionante, diamoci gli appuntamenti perché gli amici ci stanno già vedendo pre final table e quindi sappiamo a che ora dobbiamo andare sul pezzo. Il gioco riprenderà domani lunedì 6 gennaio alle ore 14 e dovremmo essere al televisivo intorno alle 15 quindi amici ci vediamo la diretta domani sarà un giorno di grande poker. Sarà un giorno di grande poker, ricordo la diretta imperdibile sul sito di Titanbet è un riferimento, sul sito dell'IPO, titanbet.it ovviamente, sul sito dell'IPO. Non dimenticate che ci sarà sempre una voluta differita di mezz'ora in modo che i giocatori non possano avere alcun tipo di informazione per quanto riguarda le carte di qualcuno che l'abbia vista in televisione in tempo reale. Questa è la caratteristica della diretta che noi proponiamo qui all'Italian Poker Open, l'appuntamento quindi già detto per domani nella sala del nono piano del casino di Campione d'Italia che ringraziamo come tradizione per la sempre splendida ospitalità. È tutto, a domani con IPO13.